Per quanto riguarda i treni passeggeri, e ce ne saranno, la velocità dei treni passeggeri è di 220 km all'ora. Una velocità assolutamente ragionevole considerando che attualmente la tratta di Valico viene percorsa dal TGV a 62 km all'ora. Quindi oggi la tratta tra Saint-Jean de Morien e Bussoleno viene percorsa a 62 km all'ora, quindi alla stessa velocità che viene usata dai servizi del sistema ferroviario metropolitano. Quindi su una cosa sono d'accordo anche con Travaglio, forse l'unica, che il tema TAV è una patacca. E oggi parlare di generi non ha senso quando si parla di patacca. Parliamo in questo momento, e io mi sono sforzato in questi anni, di una sostituzione di una linea ferroviaria che ormai ha finito il suo ciclo di vita, che è stata costruita nell'Ottocento, quando le condizioni di transito, di mercato, di tecnologie erano strutturalmente diverse da quelle attuali. Questo vuol dire questo. Allora, abbiamo provato a rappresentare le foto del 1871 e la foto del 2017. Da alcuni viene salutato come un trionfo. Guardate, il TGV passa sul vecchio Freus, certo. Una Ferrari passa anche su una carareccia, insomma, su questo. Non ci sono problemi a farla passare. Il problema è con che prestazione e con che velocità. Faccio un esempio. Il TGV, lo stesso TGV che fa ora il servizio tra Milano e Parigi. Nel momento che viaggia tra Parigi e Lione, viaggia a 235 chilometri orari. Nel momento che lui attraversa la tratta di Valico, viaggia a 62 chilometri orari. Allora, è una cosa che ha senso?